No, e caso mai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti! Su Suzuki.it Da Clint Eastwood, regista di American Sniper, un'incredibile storia vera, interpretata dai suoi veri eroi. Ore 15 e 17, attacco al treno, da domani al cinema. Agenti.it, annunci di ricerca agenti. Axpo, multinazionale operante nel mercato dell'energia e del gas, presente in oltre 30 paesi europei e leader in Italia, cerca agenti e agenzie sul territorio nazionale. Vuoi inviare la tua candidatura? Vai su agenti.it e clicca su Axpo. Agenti.it, www.agenti.it Buongiorno signora, vuole leggere qualcosa? Sì, grazie. Mi dia un quotidiano nazionale, uno sportivo e uno economico. Ah, e anche qualcosa che parli di cinema, di tecnologia, di cucina, di design, di gossip, di viaggi, di musica, di... Chiedi di più al tuo viaggio. Per tutti i clienti Frecciarossa e Frecciargento, arriva Edicola Digitale, il nuovo servizio gratuito di Tranitalia che ti permette di leggere quotidiani e riviste direttamente dai tuoi device senza connessione internet dopo l'accesso al portale Frecce. Completiamo così, insieme al mensile La Freccia, l'offerta di lettura a bordo. Info su Tranitalia.com Ciao, che hai fatto ieri? Niente, sono andata da Paola. Un salto al parco, poi in centro a fare shopping, a pranzo con Luca, poi tutta la circomalazione fino in palestra, dopo aperitivo e cena in collina, posto troppo carino, e infine ho raggiunto gli altri e abbiamo fatto un giro. Vivi la città con più energia con Nissan Juke Eco GPL. Il crossover compatto per la città con 1200 chilometri di autonomia. Solo a febbraio, Juke Eco GPL con 4000 euro di eco bonus Nissan in caso di permuta o rotamazione. E con Nissan Intelligent Buy, 1000 euro di extra scontro. Taig 6 e 26, info su Nissan.it. Vivere in un monolocale? La mamma non ci credeva, ma è facile con stira e molla di Foppa Pedretti, l'asse da stiro che scompare nel mobiletto, non ruba spazio e quando serve, hoppla, è pronto all'uso. Una mamma lo sa. Per la casa, meglio Foppa Pedretti. Scopri stira e molla su Foppa Pedretti.it Il segnale orario vi è offerto da Progetto Fuoco, Fiera di Verona 21-25 febbraio. Progettofuoco.it